114 giorni dopo la sfida dei playoff della scorsa stagione Taranto e Latina si ritrovano allo stadio Erasmo Iacovone seconda giornata del girone C di Serie Cinao si gioca a porte chiuse eh lo saranno per due giornate Taranto e Latina si affrontano a caccia dei primi tre punti della stagione Taranto sconfitto nella partita d'esordio a Gioiano uno a uno invece per il Latina contro la Casertana si parte col botto Mastro Monaco sfonda fa partire il cross per Zigoni che prende benissimo il tempo in corna e manda il Taranto in vantaggio è arrivato proprio last minute alla vigilia di questa partita Zigoni che si presenta così ai suoi nuovi tifosi gran colpo di testa ottimo anche il traversone dalla corsia di destra di Gianluca Mastro Monaco uno dei giocatori rimasti a Taranto in questa sessione di mercato secondo tempo Bocic ci prova così a calciare verso la porta senza però riuscire a bucare del favore attacca però più convintamente il Latina in apertura di ripresa Bocic è qui ancora riceve da di Livio poi non riesce a trovare lo spazio per il tiro in porta è costretto ad allargarsi l'azione poi non si evolve in maniera positiva attacca ancora in Latina cross di Bocic bucano un po' tutti dall'altra parte arriva Scaravaglieri che scaraventa in porta questo tiro che buca del favoreo primo gol fra i professionisti per questo ragazzo pescato da Latina nel tor tre teste che dunque si toglie una bella soddisfazione con questo bel gol che rimette la partita sui binari dell'equilibrio dunque si torna in parità lo Jacopone e Latina continua ad attaccare perché crede di poterla ribaltare ma nel momento migliore probabilmente della formazione Pontina Peterman si becca il secondo giallo in pochi minuti e lascia in dieci il Latina qui l'espressione abbastanza incredula di Peterman che fino ai due gialli arrivati in pochi minuti ha giocato un'ottima partita arrivato il primo al sessantunesimo e neanche tre minuti dopo lascia in dieci uomini la squadra nera azzurra attacca allora il Taranto che cambia completamente il copione della propria partita colpo di testa di Fabbro che pizzica il pallone senza però riuscire a segnare il gol del 2 a 1 il Taranto come detto dopo l'espulsione cambia completamente volto Giovinco qui rimette al centro ed è Ndoi a evitare il peggio per il Latina con questa scivolata che riesce a togliere il pallone dalla disponibilità di Zigoni che era posto centro area per il Taranto Bocic prova a sgusciare via calcia ancora con il destro molto vivace il giocatore nativo di Belgrado nel corso del secondo tempo si lotterà fino all'ultimo secondo di questa partita qui è bravissimo Ardizzone circunnaviga Ndoi poi mette il pallone per il cross che arriva pescato Giovinco che si gira e calcia di prima intenzione sulla sua traiettoria c'è Buona protesta il Taranto che vorrebbe tocco con il braccio ma non lo tiene dopo 5 minuti di recupero treplice fischio finisce 1 a 1 lo Iacovone fra Taranto e Latina Taranto e Latina Taranto e Latina